NASTRO ISOLANTE NASTRO ISOLANTE NASTRO ISOLANTE Girate i compiti e uscite dall'aula, i risultati usciranno alla fine della prossima settimana Sette minuti di ritardo, andiamo! Tempo scaduto e chiudete i libri Vi prego di appoggiarli alla vostra sinistra e di lasciare l'aula ordinata a me Undici minuti! I love in the terrible summer Bloody red sun of fantastic L.A. That's me's a brain to tap off a finger That'll be born in the birth of a nation That is the rose of mysterious human La 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 That's me's a brain to Ori Grazie a tutti